Il nostro ascolto da stamattina alle 7 fino alle 9.30 per chi ci segue chiaramente in presa diretta o in alternativa indifferita e in replica alle 13.35 circa o alle 14.35 a seconda dell'orario di fruizione comunque dopo i nostri notiziari per un'informazione di ATV che continua all'insegna delle news che arrivano dal nostro territorio ma non solo direi di ripartire anche dal meteo per vedere che giornata ci attende sulle Marche stando alle previsioni di oggi dovrebbe fare bel tempo ma lo dico utilizzando in maniera chiara e condizionale anche perché ieri insomma avevamo prospettato una situazione di sole e nubi, questo sì, poi però ci sono stati anche dei rovesci che hanno interessato soprattutto ancora la sua provincia, fateci sapere magari anche nelle altre zone come è andata oggi qualche velatura potrebbe esserci tra Ascoli, Piceno, Fermo e Pesaro mentre il sole e caldo dovrebbero dominare le province di Ancona e Macerata temperature fino a 33 gradi, questa dovrebbe essere la massima di giornata comunque molto caldo, leggiamo anche che la pressione appunto è in aumento sulla nostra regione la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo infatti il sole non avrà problemi particolari a splendere in un cielo che vedrà sereno o al massimo poco nuvoloso temperature massime come dicevo fino a 33 gradi e poi riparto dalle notizie non prima però di aver letto qualche altro vostro messaggio che ci avete mandato stamattina assoluto il buongiorno da Massimo Eombreta da Castelfidardo con un tricolore che sventola sul balcone e il sole che sta sorgendo lo vedete all'orizzonte ancora all'alba a Corridonia che ci è stata trasferita invece da Saverio che bella questa foto anche con i tetti delle abitazioni e il sole sempre là in lontananza pronto a fare la sua giornata e le segnalazioni piuttosto che cerco anche di abbinare e di mettere insieme due in qualche modo si legano e si legano ad episodi di degrado e di inciviltà mi verrebbe da dire perché questa arriva anzitutto da Porto Nuovo ieri parlavamo della situazione dei moscioli che sono pochi delle forti limitazioni del rischio stesso di incendi questo nostro ascoltatore dice i moscioli non ci sono ma in pochi centimetri di spiaggia a Porto Nuovo ho raccolto decine e decine di sigarette che finiranno in mare facendo danni a migliaia per le varie specie che possiamo trovare all'interno del mare dicevo sono tantissime serve un'ordinanza che vieti di fumare in spiaggia lamenta il nostro ascoltatore e poi aggiunge tornando verso la pineta finché incendio non ci divori Porto Nuovo un pezzetto della strada che porta verso le spiagge lì vedete per capirci gli aghi di pino e delle sigarette gettate sopra con il rischio davvero di scatenare qualcosa di grave molto grave specialmente anche perché all'interno di un contesto naturalmente che dovrebbe essere protetto poi invece la segnalazione di oggi è legata a un'altra zona della città di Ancona e in effetti leggo questo messaggio inviato da Francesca buongiorno Giacomo le foto a seguire sono del pincio di Ancona guarda i mozziconi di sigaretta che sono stati gettati nel prato di Sterpaglie e eccoci qua anche qui con un accendino rotto le sigarette appunto in mezzo alle Sterpaglie credo che riusciate a vedere anche da casa ma non è l'unico problema perché chiaro gettando una sigaretta ricordo a Francesca basta una spenta male e tutto va a fuoco ma oltre al degrado totale del parco i nostri cari concittadini ci mettono molto del loro ci sono i bagni chiusi, i giochi dei bambini rotti, alberi caduti transenne per mora pericolanti la sporcizia la potremmo evitare utilizzando i cestini scusa lo spogo figurati Francesca quale spogo anzi è utilissima questa segnalazione per provare a fare luce anche sul parco del Pincio di Ancona che si presenta appunto in condizioni non proprio efficate diciamo così e lo potete ben vedere anche qua un altro angolo di degrado poi un ultimo messaggio per portarvi anche ai giornali ma soprattutto ad un servizio che vi mostro tra qualche istante novità su tutti i cantieri ad Ancona finiranno in tempo per il G7 proviamo a fare il punto della situazione con l'assessore ai lavori pubblici Stefano Tomboli abbiamo approvato gli ultimi due stralci che serviranno per rendere tra virgolette bella o più bella Ancona dal punto di vista infrastrutturale sono quegli stralci che derivano dal finanziamento in parte della regione abbiamo approvato infatti il quarto lotto ha ricevuto l'autorizzazione della sovrintendenza che ci consente di riqualificare il ponte grande e il ponte piccolo della mole vanviteliana per cui faremo una sistemazione della pavimentazione in grandi blocchi di porfido per renderla più agevolmente percorribile specie in occasione della visita delle autorità e questo è un lavoro di circa 200 mila euro il quadro economico complessivo l'altro atto che abbiamo approvato abbiamo approvato il progetto esecutivo relativo alle opere che ci ha finanziato che realizziamo per conto dell'autorità di sistema portuale che partecipa a questa attività di riqualificazione che ci ha dato un milione che ci rende possibile e spendibile attraverso la nostra capacità di appalto e di direzione a lavori un milione per riqualificare l'area circostante la mole vanviteliana in particolare quello che riguarda le pavimentazioni perché il malessere più grande che abbiamo in questo momento è proprio di dover recuperare le pavimentazioni stradali che sono un problema abbastanza cronico di questa città che speriamo di risolvere per cui abbiamo applicato con il progetto esecutivo questi denari la ditta l'abbiamo selezionata l'obiettivo è di chiudere tutti i cantieri del G7 entro il 25 di settembre Ancona si fa bella in vista del G7 di ottobre ma anche per tutti coloro cittadini e turisti che vivono la città avvieremo il rifacimento seppure a tratti del bypass sud che vada via Bocconi fino alla Baraccola perché sarà una delle vie che probabilmente le delegazioni che usciranno da sud percorreranno per entrare in Ancona molti i cantieri attivi o che stanno per attivarsi in questi giorni in città fondamentale rispettare i tempi non so se lo avete notato in via 29 di settembre sono comparsi i cartelli per i lavori a cui daremo corso per la riqualificazione di via 29 di settembre spero che tra poco vedremo quelli di via Bocconi e del bypass sud e se il tempo ci aiuta dovremmo arrivare in tempo per il G7 anzi questa è la scommessa grande e allora riparto anche dai quotidiani perché in qualche modo si parla di cantieri ad Ancona ma non solo e uno di quelli sicuramente più importanti è la nuova piazza della Repubblica finalmente libera guardate questo scatto piuttosto suggestivo riportato oggi sul Carlino edizione di Ancona che ha fatto due pagine di approfondimento proprio sul tema vi mostro quello che era prima ovvero una foto scattata dall'alto qui siamo a fronte teatro delle Muse per capirci potete vedere il corso sulla destra e al centro la piazza questo invece è sul fronte opposto il teatro lo scorgete a destra ed è la foto di una piazza libera liberata da tutti quelli che erano gli arredi precedenti e Tombolini interviene in tal senso parlando del conto alla rovescia per terminare i lavori si dovrebbe arrivare già entro venerdì con una parvenza di scenario quasi definitivo la piazza potrebbe già tornare pedonalizzata e quindi a disposizione delle persone già da venerdì in vista della festa del mare Tombolini ha parlato nei termini di un gioiello bellissimo e la giunta guardate bene sta anche valutando eventualmente di trasferirci lì i rinoceronti di piazza Pertini la trovate un'idea giusta vi farebbe piacere stiamo parlando chiaramente dell'opera di Trubbiani un'opera che al momento è un po' nascosta la Mater Amabilis e oggi sul Carlino si fa riferimento proprio a questo possibile trasferimento perché Tombolini ha detto è un pur parler c'è stato in giunta e non è da escludere che questa possa essere una delle soluzioni andiamo alle altre news questa è di cronaca giudiziaria Luciano Lucchetti del Comune deve ancora difendersi l'ex ingegnere campo è stato assolto 34 volte ma la procura adesso fa appello mi sento un po' perseguitato dice lui e poi ancora a livello regionale le proteste per la sanità ora parlo io l'intervista all'assessore Salta Martini sui problemi denunciati negli ospedali della provincia Salta Martini racconta la sua verità che potete leggere oggi sulle colonne del Carlino passiamo invece alla provincia e alle news a partire da Osimo con il sindaco Pirani sulla graticola dopo le continue tensioni in maggioranza scoppia la grana della cultura a Monte Roberto un infarto mentre gioca gli amici lo rianimano al telefono con il 118 notizia che vedremo tra un attimo anche dal Corriere Adriatico e poi a Senigallia i finti operai raggirano tre anziani via i soldi e i monedi passiamo ad altre notizie dalla città c'è stato anche un sopralluogo o meglio ci sarà un sopralluogo del comune per quanto riguarda il cimitero delle tavernelle che si presenta in condizioni di assoluta faticenza c'è stata un'apertura da parte dell'ente per valutare quali possono essere gli interventi più urgenti da effettuare e mettere in sicurezza la struttura poi continua il botta risposta a distanza tra il Partito Democratico e l'assessore Battino accoglienza negata in merito ad un evento e le critiche che gli sono state mosse sono quelle dell'inesperienza e dell'arroganza parole dei Dem passiamo invece al Corriere Adriatico rimaniamo nell'edizione di Ancona si apro con due news di sanità in qualche modo la prima sono gli interventi in caduta libera perché dopo Trignani anche Pascarella l'ortopedico dei VIP che operò Rossi e Bagnaia mette l'ospedale di Torrette nel Mirino mancano posti letto ed infermieri mai attese così c'è una sorta di dualismo con l'IRCA Salta Martini anche in questo caso interviene e dice basta gelosie poi questa storia infarto a Monte Roberto istruzioni al telefono dal 118 è stato rianimato in campo dagli amici questa la foto che arriva appunto dal Corriere Adriatico nel dettaglio della notizia che stavamo commentando adesso insieme possiamo vedere gli aggiornamenti perché l'uomo si è accasciato alla partita di calcio sembra si tratti di un infarto non c'era l'automedica è stato rianimato dagli amici che si trovano lì compagni e barista hanno seguito le indicazioni al 118 ed è stato decisivo il defibrillatore ancora una volta la Vallesina si è rivelata scoperta di notte il medico più vicino era a Chiara Valle poi sempre con notizie che arrivano dalla provincia la crisi di Moncaro Moricone ora sbotta tutto quello che è accaduto è colpa della Lega Cop tra Marcorda rancori e colpi di scena è meglio di una sopopera la decisione presa giovedì scorso di uscire dalla Lega Cop dalla maggioranza dei consiglieri del CDA della Moncaro la scia abruzzese Morricone blinda la scelta stoppata dal custode Pollio gli ispettori del ministero hanno messo in evidenza gli omessi controlli di Lega Cop poi altre news sempre di sanità a riferimento insomma a quelle che commentavamo in precedenza malata di tumore non salgo le scale siamo a Senigallia niente cambio casa e poi questa di cronaca minaccia al titolare abbiamo il covid è tutta colpa tua e poi sono scattati anche dei guai giudiziari in tal senso per quanto riguarda le notizie cittadine si avvicina la festa del mare sabato e domenica la sfida accettata dai commercianti è stato accolto l'invito del comune più comunicazione si viaggia ancora a vista ci troverete aperti ma serve più comunicazione anche in corso a Mendola c'è con i saldi di sbaracco il nostro è un sì condizionato serve più attenzione passiamo all'edizione di Ascoli e di Fermo lo facciamo a partire dal Carlino in questo caso poi vedremo Corriere Adriatico nelle due edizioni questa è quella unica abbiamo detto qualche istante fa dei funerali del piccolo Davide oggi il lutto cittadino ad acqua santa terme per Tobi invece si aspetta l'autopsia Tobi è il bimbo che ha negato in un canale a pagliare del tronto quindi un doppio lutto una giornata molto pesante dal punto di vista delle emozioni per le comunità di acqua santa terme e spinetoli poi la cronaca blitz antidroga arresto e sequestri perquisiti in contemporanea due alloggi a Lido tre archi quindi siamo nel fermano trovati quattro etti tra hashish cocaina ed eroina taglio centrale dedicato a questo striscione siamo a San Pietro in Cagnano salviamo San Pietro un esposto in procura e una raccolta firme di ambientalisti residenti operatori del turismo nuova cava di travertino scatta la protesta sulla destra possiamo leggere delle notizie una che arriva da Ascoli ovvero l'Ancaranese e il ponte chiuso si pensa al doppio senso di marcia per cercare di ovviare a quelli che sono i problemi della viabilità invece a Porto Sant'Elpedio e quindi torniamo nella diviera fermana polemiche sulla mostra il PD i costi sono esorbitanti l'ultima news era presente anche sul nostro sito falsario catturato in Svizzera Porto San Giorgio ci aveva soggiornato ma comunque aveva lasciato una traccia importante preso con i soldi falsi era evaso dai domiciliari scattate le manette dopo mesi di ricerche peraltro aveva minacciato anche la sua ex compagna passo all'edizione di Ascoli e San Benedetto siamo al Corriere Adriatico detto chiaramente della celebrazione stamattina per Davide che è stato travolto e ucciso da un midone mentre si trovava in garage ed è stata confermata la morte per schiacciamento oggi i funerali oggi l'esame invece anche sul piccolo Tobi cambiamo notizie passiamo al taglio centrale che è dedicato al patto tra la capitaneria e i concessionari di spiaggia perché si prova a guardare all'orizzonte e l'orizzonte temporale non è soltanto quello che può vedere questo bagnino di salvataggio nel binocolo ma è anche quello di cercare di prolungare la stagione turistica balneare tanto che gli operatori saranno presenti fino al 22 di settembre vi faccio vedere anche questa notizia che arriva da Ripa Transone tagli nella RSA sitina di protesta da parte dei dipendenti chiudo con questa news da San Benedetto del Tronto con la cabina che diventa cucina abusi edilizi in uno chalet blitz della polizia locale in uno stabilimento scattano le demolizioni anche una multa salata passo all'edizione di fermo eccoci qua il titolo principale dedicato all'ex collegio c'è il progetto via libera al piano definitivo per il restyling dell'antico palazzo del centro storico ospiterà i corsi universitari di infermieristica e di logopedia oltre che un museo poi questa notizia da Porto San Giorgio promossi gli eventi dell'estate Marcattili l'assessore dice una prova superata e chiudiamo con questa news che invece arriva da Lido Trearchi supermarket della droga e una donna finisce in manette giro di vite in azione alla polizia in un alloggio nascosto anche un magrebino in condizioni di irregolarità passo all'edizione di Macerata andiamo avanti siamo al Carlino in questo caso abbiamo parlato della bella storia che potete scorgere in primo piano ovvero quella di coraggio di Emanuele che ha avuto un piede amputato per un incidente non posso tornare in campo ma ora ricomincio da allenatore il 35enne salvi travolto da un furgone mentre andava a lavoro in moto il giorno prima del suo compleanno sono stati mesi complicati adesso con la protesi faccio escursione in montagna e gioco anche a padel quindi è ripartito così guidando la formazione del Bayer Cappuccini stiamo parlando del campionato di serie C1 in questo caso di calcio A5 complimenti Emanuele per questa bella storia di coraggio tanta cronaca dal maceratese innanzitutto il malore al rientro dalle ferie muore a 60 anni l'imprenditore Gabriele Quadri siamo a Monte Cosa a Chiesa Nuova invece il blitz dei ladri in due negozi e l'auto utilizzata come ariete a Porto Recanati strada colabrodo appello di massi a rischio c'è la sicurezza e chiudiamo a Civitanova con l'ex Sabatucci la nuova viabilità che viene bocciata dalla regione poi alcune storie in particolare questa quella da Rigopiano il giardino della memoria non dimentichiamo tutto quello che è accaduto ovvero la tragedia che ricorderete ha coinvolto anche alcuni marchigiani i familiari delle vittime all'inaugurazione di questo giardino poi la protesta siamo a Macerata capoluogo in questo caso tossici nel parco per i bambini trovate delle siringhe la preoccupazione loro e la preoccupazione dell'intera comunità per possibili rischi per la salute e quindi insomma i riflettori che si accendono su un parco che dovrebbe essere pubblico non certo utilizzato per quegli scopi passiamo ad una notizia di sport perché insomma ieri è stata la giornata dei calendari di eccellenza e di promozione ma c'è anche la news che in qualche modo si lega si lega ad squadre storiche che partecipano proprio al massimo torneo regionale la rata sarebbe la maceratese inizierà a Sanseverino per la Coppa Italia e poi sarà chiamata insomma a cercare di disputare un campionato di alto profilo nella eccellenza Marche che davvero quest'anno è di un livello stellare così come era stata negli ultimi anni anche l'anno scorso San Giuliano locali sold out siamo al corriere adriatico per la festa e boom di prenotazioni arriva il patrono quindi le celebrazioni che coinvolgeranno la città prenotazioni nei ristoranti che vanno benissimo si punta sui piatti della tradizione a ragion veduta gli operatori la papera e la regina dei menù il rebus delle strade chiuse per i cantieri quindi cantieri che insomma costante leitmotif di tutte le edizioni dei giornali non potrebbe essere altrimenti però c'è un cantiere che in realtà è stato chiuso è quello di via Roma lavori finiti in anticipo passaggio ferroviario è stata ripristinata la viabilità in effetti vediamo una macchina in un verso una macchina nell'altro l'asfalto nuovo e quindi la viabilità che è tornata più o meno alla regolarità passiamo alle notizie che in qualche modo interessano anche tutta la provincia Paolo Gattafoni in poll per la guida del Cosman e quindi per la società che gestisce il ciclo dei rifiuti a Tolentino un giovane guida con il foglio rosa e scappa all'alt un'estizia di cronaca che arriva appunto dalla città Cremisi poi chiudiamo con il doppio assalto dei ladri che abbiamo intervisto anche sul Carlino l'auto è stata utilizzata come ariete quattro malviventi in azione a chiesa nuova prima hanno preso di mira uno store gestito da persone di nazionalità cinese e sono entrati forzando la seratura e rubando i soldi dalla cassa poi invece hanno utilizzato un'auto per schiantarsi contro la vetrata di una ferramenta distruggendola ma nel momento in cui è scattato l'allarme sono stati costretti a mettersi in fuga voglio portarvi invece sull'edizione del Carlino e del Corriere di Attico di Pesaro per completare la nostra rassegna approfondita poi ci ritroviamo per tutti gli approfondimenti partiamo dal taglio centrale dedicato al palio dei bracieri che è roba sua dicono sul Carlino si tratta di Massimiliano Santini ex creativo del sindaco Ricci ora al centro del caso Opera Maestro Santini ha registrato il marchio a suo nome quando era nello staff di Ricci poi tanta cronaca oggi sul Carlino partiamo da questa notizia il caso di un cinquantenne di Montecchio che è morto dopo mesi di agonia e giallo si ipotezza un virus o un batterio è stata disposta l'autopsia sempre in materia di sanità attesa di 12 ore al pronto soccorso la rabbia di una settantenne pazienti parcheggiati nei corridoi e quindi è arrivata anche la denuncia per quello che è accaduto passiamo alla notizia di politica stasera la festa dell'unità Matteo e Matteo il ritorno ricorderò a Renzi gli errori fatti e quindi l'appuntamento in programma per qualche giorno si parte oggi si arriva fino a domenica quando sarà presente anche la segretaria nazionale del partito democratico Ellie Schlein ma intanto questo faccia a faccia tra due primi cittadini quello di Firenze a Renzi leader di Italia Viva e quello di Pesaro Ricci che appunto oggi è uno dei pezzi da 90 del PD è stato eletto anche europarlamentare alle scorse elezioni europee volevo chiudere con lo sport che ci arriva dal Carlino per quanto riguarda il basket folla ed entusiasmo per la VL a Pesaro dopo le follie già fatte per comprare prima di tutti un abbonamento in Serie C Paganini con sola la vis rialziamoci subito dopo la batosta inflitta dalla Torres chiudo col Corriere Adriatico un minutino ancora per partire dagli asili l'obiettivo rilancio per il prossimo anno scolastico il comune si concentra su servizi per la fascia 0-3 anni da una parte si punta a ricavare più posti per i bimbi dall'altra a riqualificare le strutture a proposito di riqualificazione vanno avanti i lavori per l'ex Bramante sono arrivate le ruspe anche il georadar per l'intervento di recupero una notizia da Fano un paio a dire il vero partiamo dal terzo settore la grande risorsa di 8.000 persone quindi tutta l'anima del volontariato che fa bene a tutti e alla città e poi una notizia di cronaca con questo colpo tenta di svaliggiare una casa è stato arrestato invece dai carabinieri e per il momento direi che ci siamo mi fermo abbiamo completato le prime pagine dei due quotidiani ma l'informazione di ATV naturalmente continua state con noi sema tende infissi è a Castelfidardo assistenza riparazioni e vendita infissi in legno pvc o alluminio tapparelle e persiane porte da interno e portoni blindati in classe 3 con kit termico e acustico completi di pannello interno ed esterno montaggio in giornata sema tende infissi per vivere il tuo giardino d'inverno progettazione di tende da sole pergole e gazebo bioclima con resistenza al carico neve unici in Italia predisposizione per luci led e chiusure perimetrali in pvc o vetrate sema tende infissi è a Castelfidardo in contrada San Pellegrino 20 BST tecnologie riparazione smartphone tablet e computer e vendita dispositivi ricondizionati con uno o